Quando l'abbiamo composto ed è nato, ci siamo resi conto di aver fatto un album senza singoli. Nel senso che non c'erano canzoni d'amore, ogni canzone aveva una propria forza e nessuna canzone, secondo il nostro punto di vista, fosse più forte di un'altra, superasse l'altra. E quindi a quel punto ci siamo detti perché non fare i video di ogni canzone. Da questa l'idea poi di unire tutti i video e quindi di creare una serie televisiva, anche perché questa è anche un po' l'era delle serie televisive. Erano tutti potenzialmente singoli ma non lo era nessuno, quindi abbiamo detto perché non facciamoli tutti, nel senso leghiamo questo progetto cinematografico, un cortometraggio, alla fine a noi è sempre piaciuto fare queste cose. Noi abbiamo scritto questo album negli ultimi due anni e in questi due anni è successo un po' di tutto nel mondo, dal terremoto all'ISIS, al fenomeno del terrorismo in Europa, perché poi il terrorismo c'era già, c'è da sempre praticamente. Non è che noi non vediamo una via d'uscita, noi abbiamo semplicemente descritto quello che ci succedeva intorno e quello che succedeva anche a noi. Negli album vecchi abbiamo sì parlato anche di argomenti così seri, sociali, però non erano il centro focale dei nostri lavori. Adesso sì, adesso abbiamo creato proprio un concept che parlasse proprio di questo, proprio perché quando abbiamo deciso di scrivere un album nuovo era un periodo in cui non c'era un cazzo da ridere. Io penso che non si può scrivere d'amore se non si è innamorati, noi eravamo incazzati e quindi abbiamo scritto cose con questo stato d'animo. Probabilmente partiamo dalla stessa radice del Napolitan Power degli anni fine 70-80, nel senso che anche noi ascoltiamo black music praticamente tutto il giorno. Però non so se siamo così simili a quegli artisti, anche perché io non mi sento di paragonarmi a quei musicisti lì, di quel periodo là. Ci piace molto il cinema, abbiamo scritto anche per il cinema, alcune volte ci piace molto il fumetto, il cartone animato. Ideiamo praticamente tutto noi, noi siamo autoprodotti da sempre, abbiamo questa mentalità che ci accompagna da quando abbiamo iniziato a fare questo progetto. E quindi tendiamo a curare ogni aspetto dei nostri progetti. Quindi dall'inizio, dalla parte musicale, dalla scrittura dei testi, che poi la facciamo io e lui proprio in prima persona, poi la arrangiamo con la band che è formata da Saverio Giuliano, voglio dire giusto per Antonio Di Costanzo e Salvatore Zannella e Alfonso Laverghetta, che è il nostro fonico, ma è anche il sesto derivati. Le tematiche sono comunque forti e importanti, come appunto lo è stato Badaclano, non c'è un cazzo a ridere, lo stesso Shea. Ha già studiata la televisione, e mi è venuta una curiosità, ma questa gente piglia e pena fino a qua, quale ha ragione, quale ha verità, un giornale sotto braccia, e ma voglio capire, ma intanto crollano i spitali, mora una creatura, tutta sotto all'occhio. Il mood è quello, quindi sicuramente non si tratta di un lavoro in cui ci sono ballad e canzoni di serata leggere, quindi bisogna aspettarsi tutti gli argomenti forti. Sì, il titolo è Non c'è un cazzo da ridere, quindi vi lascio immaginare che ci saranno trattate dei soggetti poco allegri. Grazie.